Il 2017 comporterà la prosecuzione del progetto di riorganizzazione e di ristrutturazione che stiamo facendo sull'intero territorio. È un progetto che già abbiamo realizzato penso al 70%, c'è un restante 30% che deve essere ancora fatto, molto è avviato, qualcosa sarà avviato all'inizio dell'anno, però tutte le cose che avevamo programmato sono accadute già, tant'è che ad esempio il presidio di Gela ha avuto ristrutturato il reparto per l'ortopedia all'ultimo piano, sono stati predisposti i locali per la riabilitazione, sono stati allargati i posti della chirurgia, è stato creato lo spazio per la breast unit, sono stati dati i posti letto all'urologia, abbiamo dotato l'ospedale di nuove attrezzature, le ultime due che sono arrivate è una colonna endoscopica di ultimissima generazione con una visione 3D che ne abbiamo acquistate tre, uno per Gela, uno per la parte di Caltanissetta e uno per Mussomeli, siamo gli unici in Sicilia in questo momento ad aver acquistato queste attrezzature per fare delle diagnosi che siano diagnosi complete. Abbiamo già indetto la gara per una colonna video-operoscopica sia per Caltanissetta che per Gela, delle cinque tacche che avevamo già acquistato, quattro già sono state montate, la quinta che è quella di Gela, inizieranno i lavori entro la seconda decada di gennaio, sono tutte cose che sono già state fatte, ancora ce ne sono cose da fare, c'è da trasferire l'oncologia, da ristrutturare il reparto per le malattie infettive, c'è da ristrutturare la dialisi, c'è da rinnovare il parco tecnologico, ad esempio delle radiologie, dell'oculistica, dell'odorino, sono tutte cose che sono in programma. Oggi l'ospedale si può chiamare ospedale, prima non so come era combinato, non dimentichiamo, abbiamo aperto un pronto soccorso, abbiamo aperto la cardiologia con l'UTIC, ma questo non è che ci soddisfa, questo ci gratifica perché abbiamo conseguito dei risultati che non sono risultati nostri, sono risultati della città.